Di certo è così l'impatto tanto su cui riflettere, cioè ci sono stati dati tantissimi input, tantissimi concetti che l'attrice sicuramente ha sviluppato facendo l'analisi per preparare questo testo e che poi a noi tocca rianalizzare dalla sua sintesi. Dobbiamo cercare di prendere quello che lei ha creato alla fine e di riportarlo all'interno della nostra sensibilità, quindi trovare un senso, le risposte che lei ha dato devono diventare l'inizio per una nostra domanda secondo me, quindi appunto anche per quello che chiedevamo prima un testo, perché da quello poi ripartiremo per pensare, per cercare di capire che valore ha quello che lei ha detto oggi per noi.